Mi sono sempre considerato prima di tutto un nazionalista tibetano e un patriota, ma adesso ho compreso che a seconda delle persone questi termini significano cose diverse, scrive Tashi Tzerin nell'epilogo della sua autobiografia. Mi sono sempre posto l'obiettivo di aiutare il Tibet, ma mi ritrovo sempre più spesso a chiedermi, quale Tibet? Chi rappresenta davvero il Tibet? Il Dalai Lama? La vecchia aristocrazia che vive in esilio da decenni e che ha sempre escluso la gente come me da ogni decisione? Il libraio tibetano che ho incontrato ad Austin nel Texas che non mi rivolgeva neanche la parola perché pensava fossi comunista? Più invecchio e più difficile diventa trovare risposte semplici. Quello su cui non ho mai avuto alcun dubbio è che in nessun modo mi auspico un ritorno a niente che assomiglia anche solo lontanamente alla vecchia società feudale e teocratica tibetana. Ma credo anche che il prezzo del cambiamento e della modernità non dovrebbe essere la perdita della propria cultura e della propria lingua. E se quindi continuo a sostenere la marcia verso la modernizzazione del Tibet, credo anche che come tibetani sia nostro dovere combattere per assicurarci di non perdere il nostro patrimonio culturale e linguistico. Firmato Tashi Tsering, patriota tibetano e costruttore di scuole, come scopriremo oggi. Ieri abbiamo lasciato il nostro Tashi e la sua lotta per un Tibet moderno proprio all'inizio di uno snodo fondamentale del suo racconto. È il 1963. Tashi da qualche anno è negli Stati Uniti, dove finalmente si è potuto dedicare a tempo pieno allo studio, quando in mezzo all'incredulità degli amici annuncia di voler tornare in patria, come ricorda il suo mentore Melvin Goldstein, per dare il suo contributo appunto alla costruzione di un nuovo moderno tibet. Il viaggio di ritorno sarà un'epopea. Prima tappa Montreal, poi Lavana e infine dopo 57 giorni di nave Canton, durante i quali Tashi prova a rimettere ordine alle sue idee. Storicamente scrive la responsabilità di come era strutturata la vecchia società tibetana era tutta della classe dirigente, gli aristocratici e i monaci. Dall'esilio questi vecchi dominatori stavano una ora lottando per l'indipendenza del Tibet e sarebbe stato semplice per me unirmi a loro. Ma non credevo che i loro sforzi avrebbero aiutato il paese. Temevo che l'indipendenza allora, anche qualora possibile, non avrebbe significato altro che il ritorno alle vecchie regole. Mi ero convinto che prima di cercare l'indipendenza dovevamo metterci al passo col ventesimo secolo e per farlo dovevamo accettare, se non addirittura supportare, le opportunità offerte dai comunisti cinesi. La questione dell'indipendenza tibetana eventualmente doveva essere lasciata alle generazioni successive. Arrivato a Canton con sua grande sorpresa ad accoglierlo troverà una delegazione dell'istituto per la minoranza tibetana della città di Sinyang. Era una prima lezione di come funzionava la Cina, riflette Tashi. Evidentemente avevano già pianificato tutto per me già da quando ero a Lavana. Tashi aveva espresso la volontà di fermarsi alcuni anni in qualche università di prestigio cinese per studiare ancora un po' prima di rientrare in Tibet. Loro avevano scelto per lui uno degli istituti dedicati alle minoranze che avevano istituito in giro per la Cina per formare quadri e insegnanti tibetani e costruire così una nuova classe dirigente rivoluzionaria. L'impatto con la sua nuova casa per Tashi è decisamente tosto. Abituato ormai agli standard di benessere americani, Tashi deve affrontare la rigida austerità della Cina dei primi anni 60, quando era ancora a pieno titolo un paese del terzo mondo. Anche il sistema educativo lo lascia piuttosto perplesso. Al posto della dialettica che veniva incentivata nelle università americane si trova di fronte a lezioni mnemoniche e ripetitive e deve pure faticare. Allora infatti per gli studenti e pure per i prof alle attività in aula si alternava obbligatoriamente il lavoro nei campi, uno degli assi portanti dell'ideologia maoista. Per comprendere la condizione contadina e diventare partecipi della loro lotta per l'emancipazione non c'è scuola migliore di una bella vanga. Fino a che quell'idea non degenera. È l'era della grande rivoluzione culturale. Mao Zedong ricostruisce Tashi pensava che la rivoluzione comunista rischiasse di arenarsi perché molti ufficiali governativi avevano ancora valori pre-rivoluzionari. La rivoluzione culturale doveva servire per accelerare la sostituzione di queste vecchie idee con una nuova cultura autenticamente proletaria. Tashi inizialmente partecipa con entusiasmo a questa nuova ondata rivoluzionaria e diventa a tutti gli effetti una guardia rossa. Anche dopo aver visitato insieme ai suoi compagni Lhasa nel 66 e aver assistito a uno spettacolo non esattamente edificante. Rimasi colpito, racconta Tashi, dalla quantità di nuove abitazioni e strade. Lhasa era cresciuta a dismisura e rimasi particolarmente impressionato anche dalla quantità di alberi che costeggiavano le strade principali. Ma dietro questa copertina si nascondeva anche un lato decisamente meno edificante. Il grande vivace mercato centrale era sparito. Per strada, al posto dei soliti mercanti di ogni genere che urlavano a ogni angolo, c'erano pochi tristi e impori governativi. Il cibo era razionato, ricorda Tashi, e non c'era quasi per niente né carne, né burro e nemmeno patate. I giovani progressisti che aveva frequentato prima di partire per l'India erano diventati oggetto di persecuzione. Se un quadro di quartiere scopriva che stavi ancora praticando la religione, ricorda Tashi, ti denunciava e eri costretto a subire un processo popolare di fronte alle masse. Ma ciò nonostante, continuavo comunque ad essere pieno di zelo rivoluzionario, ricorda Tashi, e non ero il solo. Il Tibet era pieno di guardie rosse tibetane impegnate nella rivoluzione e, ad essere onesto, ero assolutamente orgoglioso di far parte di quel movimento. Fino a che la furia delle guardie rosse non si abbatte anche su di lui. Era il 13 ottobre 1967, ricorda, e non c'erano state avvisaglie. Ero appena entrato in classe quando l'attivista seduto al mio fianco si alza in piedi e ad alta voce scandisce. Suggerisco che l'antirivoluzionario Tashi Tzerin sia isolato dagli altri e messo sotto supervisione. Non potevo credere alle mie orecchie. Per Tashi è l'inizio di un nuovo incubo, da fare impallidire quello vissuto nei lunghi anni alla corte del Dalai Lama. Come usava a quei tempi, gli viene legata al collo una lavagna di Ardesia con su scritto Abbasso il contro-rivoluzionario Tashi Tzerin e lo costringono a camminare per il campus in mezzo a una folla inferocita. Segue un simpaticissimo processo sommario in piazza, durato ore, durante le quali si alternano vari compagni di studio che lo accusano di ogni sorta di nefandezza. Gli viene sequestrato tutto il poco che si era portato dietro dagli USA e dal dormitorio, viene spostato in una specie di minuscolo sgabuzzino. La mattina dopo ripartono gli interrogatori. Lo scopo dell'interrogatorio, ricorda Tashi, era farmi confessare i crimini che loro credevano avessi commesso. Il processo era come spremere il dentifricio. Lo descrivevano proprio così e durò per i successivi 45 giorni. Il sospetto ovviamente era che Tashi fosse al servizio dell'imperialismo USA e del Dalai Lama ed era solo l'inizio. Dopo 45 giorni di interrogatori, infatti, dallo sgabuzzino Tashi viene trasferito in un grande edificio vicino al centro del campus, costruito apposta per fare da carcere a persone nella sua situazione. Era così sporco e orribile, ricorda Tashi, che lo chiamavano la stalla delle mucche. Insieme a lui, oltre 150 altri studenti e insegnanti, sia tibetani che dietniani. La rivoluzione culturale, sottolinea Tashi, non guardava in faccia al background etnico. La giornata era impegnata in buona parte da lavori volontariamente umilianti nei campi e da lunghe sessioni di indottrinamento. Venivano interrogati continuamente e spesso anche percorsi. Verrà rilasciato soltanto alla fine dell'anno. Ma la mia situazione non migliorò granché, ricorda Tashi. Poco dopo, infatti, Tashi viene spedito nella contea di Chang'u, a sei ore di auto da Xinjiang, compito scavare rifugi antiatomici. La minaccia di una guerra tra Cina e Unione Sovietica, ricorda Tashi, stava mettendo di nuovo in subbuglio il paese e si era diffuso ovunque il timore di un futuro attacco nucleare. Non ero in prigione, ricorda Tashi, ma nemmeno libero. Eravamo a disposizione per ogni sorta di lavori forzati. Questo nuovo stato, specifica Tashi, comportava lo stesso tipo di indottrinamento e di intimidazioni del passato e anche un lavoro manuale spesso estremamente duro. Passavamo la maggior parte dei nostri giorni sottoterra in tunnel alti non più di un metro e larghi due, dove tagliavamo il terreno con piccozze e pali e portavamo il terreno in superficie a mano nuda. Iniziavamo la mattina presto e facevamo solo piccolissime pause giusto per nutrirci alla rinfusa e avere le energie per continuare. E la sera eravamo di nuovo in un'altra stalla per le mucche. Pensavo la mia situazione non potesse in nessun modo peggiorare, ricorda Tashi. Mi sbagliavo. Il 23 marzo del 1970, infatti, Tashi deve affrontare un altro processo pubblico. La condanna era già stata emessa. Ero stato formalmente condannato per essere una spia e un sostenitore dell'indipendenza del Tibet. Anchiodarlo, in particolare, una lettera che avevo ricevuto da un amico americano dove mi invitava a dare guerra ai barbari comunisti e il fatto che in un articolo scritto durante il mio soggiorno negli USA avevo affermato che il Tibet era indipendente. La nuova casa di Tashi è di gran lunga la peggiore che avesse sperimentato fino ad allora. Le celle erano scavate nella roccia e il pavimento era di fanghiglia. Dieci persone condividevano una cella di 30 metri quadrati. Potevamo andare in bagno solo due volte al giorno e per il resto avevamo una buca nella cella che veniva svuotata ogni mattina. L'odore era insostenibile. Eppure il cibo. Alle dieci la mattina ci davano due fette di pane al vapore, una rapa bollita e una ciotola di acqua calda. Lo stesso menù poi di nuovo alle quattro del pomeriggio e poi nient'altro, ricorda Tashi. I prigionieri non potevano muoversi e nemmeno parlare tra loro e ogni tanto qualcuno veniva fatto fuori. Ricordo in particolare di una notte durante la quale fumo costretti a sentire per tutto il tempo il pianto disperato di un prigioniero che era stato condannato a morte mentre le guardie lo schermivano. Pensavo fosse il destino che avevano in riservo anche per me. Invece senza nessun preavviso, il 30 novembre 1970 le guardie lo invitano a uscire dalla cella. Lo caricano su un camion senza dirgli quale fosse la destinazione e lo portano nel carcere di Chengdu, la storica capitale dello Sichuan. Inizialmente qui le condizioni sembravano decisamente migliori. Poteva parlare con i compagni, il cibo era decente e i pavimenti non erano più di fango puzzolente ma di cemento. Ero così contento di questi cambiamenti che feci il terribile errore di abbassare la guardia. Cominciai a rispondere con entusiasmo alle domande dei miei compagni. Avevo un bisogno estremo di parlare con qualcuno. Fu un grande errore, sottolinea Tasci. La prigione infatti, scrive Tasci, era piena di spie. Mi accusarono di essere un piantagrane e come punizione mi misero delle manette che dovevo tenere giorno e notte, anche quando mangiavo o andavo in bagno. Fortunatamente però durò solo tre giorni. Al quarto giorno, Tasci viene condotto all'aeroporto ad aspettarlo un aereo di fabbricazione russa, destinazione Lhasa. Venne trattato come se fosse una pericolosa spia internazionale. Arrivato a Lhasa poi viene trasferito nella prigione di Sangib. Questa prigione era anche meglio di quella di Chengdu. Poteva pure leggere il giornale. Che culo eh! Tra una storia e l'altra passano quasi altri tre anni. Finché un giorno, del tutto inaspettato come il suo arresto, ecco che si presenta un alto ufficiale. Oggi sarai rilasciato, pensiamo tu sia stato propriamente rieducato e ora sei un uomo nuovo e la nostra sola speranza è che tu in futuro possa servire il popolo. Era il 17 maggio del 1973. Dopo quasi sei anni, Tasci era finalmente libero. Oddio, proprio libero libero è un parolone. Infatti era stato di nuovo assegnato al suo vecchio incarico a Xinjiang. Il suo ritorno in Tibet da uomo libero doveva ancora attendere altri cinque anni. È il dicembre del 1978 e Tasci finalmente non solo può tornare all'Asa, ma pure con qualche soldarello in tasca. Avevano emanato un documento ufficiale nel quale affermavano che ero stato ingiustamente arrestato e imprigionato, che avrebbero risarcito tutto il salario che avevo perso e che sarei stato riclassificato dal lavoratore a intellettuale. Non avevo mai creduto di poter ottenere tanto, neanche nei miei sogni più sfrenati. Dopo tutti quegli anni di disperazione, alla fine avevo vinto. Tasci viene assegnato al National Language Research Center, dove comincia a lavorare al primo vocabolario anglosino-tibetano. La Cina e la sua Lhasa stavano cambiando. Ora il governo voleva provare ad aiutare l'intellettuale che erano stati così perseguitati durante la rivoluzione culturale, riflette Tasci. Un giorno viene invitato dal governo della regione autonoma a presentare il suo progetto per il vocabolario. Fu un incontro molto diverso da quelli a cui ero abituato. Solitamente non c'era nessun dibattito, era solo una performance pubblica. Qui invece si percepiva che ci si poteva esprimere liberamente. Tasci coglie l'occasione al balzo. Sentivo che l'opportunità era di quelle che ti capitano una volta nella vita e non avevo nessuna intenzione di sprecarla né in false elogi né in lamentelle egoistiche. Volevo semplicemente parlare del mio progetto, descrivere le difficoltà che stavo incontrando e spiegare come il governo mi avrebbe dovuto aiutare. Fu la scelta giusta. Con grande stupore approvarono pubblicamente le mie richieste e dichiararono che il mio college doveva darmi tutto il supporto finanziario necessario. Pochi giorni dopo l'incontro la mia nuova scuola mi riconobbe un finanziamento sufficiente per assumere tre nuovi aiutanti. Tre anni dopo il dizionario era sugli scaffali delle librerie. Lo vedevo come il primo passo concreto che avevo fatto per aiutare il mio popolo a mettersi al passo col ventunesimo secolo ed è solo l'inizio. Dopo il vocabolario Tashi sfonda la prima scuola privata per lo studio della lingua inglese di Lhasa. Un successo enorme che gli garantisce già dal primo anno un buon profitto che sapeva benissimo come investire. Poco prima infatti era tornato a visitare la sua famiglia al villaggio. Mentre rincontrare la mia famiglia fu bellissimo ricorda Tashi vedere che i miei nipoti erano analfabeti come me da bambino fu deprimente. 40 anni dopo aver lasciato il villaggio per entrare nella corte del Dalai Lama nel villaggio per l'educazione non era stato fatto ancora niente. E come può il Tibet trasformarsi in una società moderna con così tanto analfabetismo? La rivoluzione culturale ricostruisce Tashi era stato un disastro per l'educazione in Tibet. Non solo le scuole erano state chiuse ed erano state trasformate in centri di attivismo politico ma le minoranze come quella tibetana erano state spinte verso l'assimilazione da parte della maggioranza Han. La lingua tibetana non veniva usata negli uffici e le poche scuole rimaste insegnavano come prima lingua il cinese. Le riforme del 78 però, continua Tashi, cambiarono drasticamente il quadro introducendo una politica espressamente in difesa della lingua tibetana, della sua religione e della sua cultura. Quando il segretario del partito Hu Yaoban visitò l'Asa nel 1980 dichiarò pubblicamente che c'erano troppi funzionari cinesi in Tibet e che in futuro come minimo per rimanere in Tibet avrebbero dovuto imparare la lingua tibetana. Per noi era una grandissima vittoria ma tra il dire e il fare c'è di mezzo e il. E nel 1984 dei 2.000 studenti che in tutto il Tibet frequentavano i tre college istituiti dal governo erano di etnia tibetana soltanto il 34% e il resto erano Han nonostante rappresentassero una percentuale piuttosto irrisoria di popolazione. L'idea di Tashi allora è semplice, dobbiamo costruire piccole scuole direttamente nei villaggi perché non ci saranno mai più tibetani qualificati nelle scuole di alto grado e nei college se le fondamenta di un'educazione di qualità non esistono a livelli di base. Tashi allora prende il mallopetto che aveva tirato su con la scuola privata per l'inglese, va dai funzionari del dipartimento di educazione della contea del suo villaggio natale e gli fa una proposta semplice. Io costruisco la scuola con i miei soldi e voi vi occupate di tutto il resto. Assumete gli insegnanti, vi occupate della manutenzione, passano altri sei mesi e Tashi si vede apparire a casa un funzionario della contea. La sua proposta era stata accettata, ma gli ostacoli non erano ancora finiti. A mettersi di mezzo questa volta addirittura la gente del villaggio, a partire dalla sua stessa famiglia. Incazzati neri per i soprusi subiti durante la rivoluzione culturale non accettavano che il proprio figlio spendesse i suoi quattrini per aiutare il governo a portare avanti le sue politiche. Ma non solo, circolava anche una voce secondo la quale era tutta una truffa. In realtà stavo costruendo una villa per me dove sarei tornato a vivere per comandare l'intero villaggio, ricorda Tashi. Ostacolo dopo ostacolo, comunque dopo quattro anni, un Tashi ormai vicino alla sessantina riesce finalmente a coronare il suo sogno. La scuola di Guchok poteva partire ed era solo l'inizio. Una volta che la scuola è stata inaugurata era chiaro, ricorda Tashi, che sarebbe stato piuttosto semplice replicare l'esperienza in altri villaggi della Contea. Per replicare la stessa offerta alla Contea, Tashi rimette in piedi la sua rete di relazioni con gli amici dei tempi americani e si mette a commerciare tappeti artigianali e altri prodotti tibetani. Gli affari vanno a gonfie vele e nel 1991 una nuova scuola viene inaugurata nel villaggio di Carze. Tre anni dopo si cominciano a vedere i primi risultati. Nel 1994, ricorda Tashi, infatti, venne a sapere dal Dipartimento Educazione della Contea che tra tutti gli studenti, quelli che provenivano dalle nostre scuole avevano registrato il punteggio più alto. Tra questi, sottolinea Felice Tashi, mio nipote, che è diventato il primo membro della famiglia a frequentare una scuola moderna. Negli anni successivi le scuole di Tashi da due diventeranno una trentina. Tashi era riuscita a dare un contributo concreto fondamentale alla costruzione di un Tibet moderno e il suo bilancio è illuminante. Poco prima di rientrare in Cina negli anni 60, ricorda Tashi nell'epilogo della sua autobiografia, scrissi una lettera al mio amico Larry Epstein della Washington University che lui ha gelosamente custodito e mi ha riconsegnato durante il mio ultimo viaggio negli USA. Nella lettera affermavo con orgoglio che sono contento perché sto tornando a casa. Entro un mese sarò a Pechino dove mi voglio concentrare sullo studio per qualche anno prima di iniziare a lavorare per costruire il socialismo, la democrazia e la felicità del Tibet. Quanto ero naif! Che folle ottimista! Eppure, spesso penso che se non fossi stato intriso di tutta questa ingenuità e di tutto questo folle ottimismo, non sarei mai sopravvissuto e non avrei mai realizzato quello che ho realizzato. Pochi mesi dopo la sua morte nel 2014, sul Tibetan Review, testata storica dell'indipendentismo tibetano redatta in India, esce una riflessione sull'incredibile storia di Tashi. Si può essere patriottici collaborando col nemico? Si chiede provocatoriamente già nel titolo, ma le conclusioni sono abbastanza sorprendenti. Non è stato l'unico Tashi Tzering famoso in Tibet, si legge nell'articolo. Ad esempio c'è un Tashi Tzering della prefettura di Loca che il 26 agosto 1999 ammainò la bandiera nazionale cinese davanti al palazzo del Potala a Lhasa. È stato arrestato e picchiato e in seguito, secondo quanto riferito, si è suicidato nella sua cella. Un altro Tashi Tzering, un nomade di 22 anni di Achok nella provincia di Gansu, è stato registrato come il primo tibetano a darsi fuoco nel 2013. La mia convinzione personale però è che ciò che il professor Tashi Tzering ha fatto durante gli 85 anni della sua vita ha portato più vantaggi ai suoi connazionali di quello che hanno fatto gli altri due suoi omonimi. Noi, come credo si noti, non siamo tibetani e di prassi non ci piace fare troppo gli sboroni col culo degli altri. A me poi mi danno già abbastanza noia gli americani solo per il fatto che occupano un pezzo del mio paese proprio a tre passi da casa mia da oltre 70 anni con una gigantesca base militare. Quindi non mi permetto di trarre facili conclusioni. Ognuno però almeno ha il diritto di scegliersi i suoi eroi. Pompati da Hollywood, da Richard Gere, dai Beastie Boys, in molti hanno eletto al loro eroe il rappresentante di una teocrazia che con l'aiuto della scia voleva riportare il medioevo in tibet. Io invece voto Tashi Tzering, l'uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla costruzione di un tibet moderno. E vorrei pure cominciassimo a provare a costruire anche noi la nostra piccola Hollywood di periferia che i suoi sette anni in tibet li passa con Tashi invece che con un Brad Pitt qualsiasi che celebra la memoria di un gerarchia dell'SS tra un falso storico e l'altro. Per farlo però abbiamo bisogno del tuo aiuto e anche magari di un Richard Gere perché evidentemente io non lo posso sostituire diciamo. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal e chi non aderisce è Brad Pitt. Ah no, me sa che come minaccia non è che funzioni tantissimo diciamo. E chi non aderisce è Henry Kerr che è il nazista di sette anni in tibet. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. Ha ha ha.